Tenevo a parlarvi sia dell'una che dell'altra, adesso dopo circa 5-10 minuti esce il video anche su Marsiglia-Lazio, è stato sintonizzato domani 7 del mattino, andiamo a fare il punto call, Lazio adesso che prende possesso, guadagna un fallo, però c'è la regola del vantaggio, Lazio che ha fatto un ottimo secondo tempo, peccato, e intanto qua mancano due minuti con Ciro Immobile, che però non riesce a andare, palla Paolo Lopez, che adesso vuole fare ripartire i suoi, Marsiglia che negli ultimi istanti, 10-15 minuti, si è reso tanto pericoloso, ha dato tanto da trovare il gol con, se non erro, Dimitri Payet, con adesso la palla per Milik, il pallone allargato, ho lasciato sfilare a cercare, se non erro, Guendouzi ancora qua, il pallone recuperato per un attimo, Lazio ancora qua, gestisce la palla il Marsiglia, con poi andare il cross in mezzo, non c'è niente, e ancora, ma che si è addormentato, si è addormentato a qua, a pro, veramente, non capisco questa Lazio, perché ha fatto vedere a Sperazzi essere una grande squadra, in altri Sperazzi veramente ha dimostrato di essere una squadra che dipende da quando, ma è mediocre, scusatemi tifosi laziali, però in alcuni casi, devo dire che in Europa, soprattutto, veramente sta dimostrando di essere mediocre, devo essere proprio onestissimo, con adesso il Marsiglia che attacca la Lazio dopo il primo gol, arrivato su, sull'espinta con il gol di Felipe Anderson, si era ripresa nel secondo tempo, e poi dopo il gol di Immobile sta continuando ad attaccare per i primi dieci minuti, e poi visibilmente è crollata, non me ne capacito, quando siamo al 93, è 40, e vediamo ancora palla per il Marsiglia, quindi probabilmente, a meno che non ci sia un tiro, si concluderà per il Marsiglia, invece no, palla può ripartire adesso a Lazio, ma la riconquista il Marsiglia, penso che finirà così, vediamo se fischia l'arbitro, giallo intanto per Pagliè, ma però Acerbi rilancia subito con Pagliè che veramente si incavola in questo caso, un po' c'è ragione, perché era anche diffidato, quindi salterà la prossima, vediamo un po' all'ultima occasione, ma non penso che succedrà niente, a dire il vero se vuoi essere onesto, con una Lazio che intanto fischia qua, fischia qua, una Lazio che è stata molto altalenata, e che ha fatto vedere alcuni sprazzi di grande Lazio, altri veramente di squadra mediocre, mediocre, non posso dire altro, squadra molto mediocre, che non era assolutamente alla pari con il Marsiglia, ma quando invece, secondo me, io sono del parere che la Lazio sia una squadra veramente che abbia un potenziale assurdo, e oggi secondo me se la potevano giocare anche meglio, hanno giocato 30 minuti buoni, gli è andata abbastanza di culo, e passatemi il termine, con la Lazio che ha cercato di attaccare anche dopo il gol per cercare magari il 3-1, però alla fine non ci è riuscito, e questo è un vero peccato, perché sarebbero potuti essere tre punti, a mio parere, fondamentali per la qualificazione ai gironi, per la qualificazione, scusate, agli ottavi, perché ricordiamo che la Lazio ha perso anche la partita contro il Galatasaray, quindi la situazione per loro è sempre molto tosta, quindi bisogna stare molto attenti, perché la Lazio o rischia di andare in conference, o addirittura rischia di arrivare in seconda o andare in conference, perché c'è la Lazio, c'è il Marsiglia, è un girone veramente molto tosso, quello è la Lazio che oggi doveva portare i tre punti a casa, ma purtroppo non ci è riuscito.